Sì, vorrei vedere questa immagine nuova, assolutamente, è un fermo immagine, è dell'immagine dalla porta di Buffon, dalla area di porta di Atkinson, che è il collaboratore di porta di... Questo è il momento, guardate questo è il momento. Allora, guardate bene il piede sinistro di Benatia, che tocca nettamente il pallone, questo fermo immagine, noi avevamo ingrandito addirittura questa immagine, quindi in questa situazione non ci può essere assolutamente fallo, il direttore di gara presume di aver visto un fallo, ma perché i corpi oscurrano la sua visuale, occultano la sua visuale, quindi il direttore di gara centrale, come fa a vedere questo intervento, quindi è una presunzione di colpevolezza che non può esistirla. Non poteva chiedere anche l'assistenza. Troveva intervento, infatti i giocatori della Juventus... Allora, è chiaro che questa immagine scatena poi, oltre a tutti i rimpianti, anche una vivascissima discussione.